Per me insegnare vuol dire portare tutta la mia attività di musicista verso gli allevi e insegnar loro tutto quello che so e che ho imparato in tutti questi anni in maniera pratica e concreta, senza troppa teoria e offronzoli inutili che possono semplicemente ostacolare il raggiungimento degli obiettivi. Intendo sempre far divertire le persone che si siedono nello sgapello del mio piano verticale e insegno solo brani che mi suggeriscono gli allevi. Suggerisco brani io solo se vedo l'allievo nell'imbarazzo della scelta e questo lo faccio con tutti i miei attuali allievi, bambini o adulti a prescindere dal genere o dal livello di musica che uno fa. L'importante per me è non scegliere dei brani da imparare troppo lontani dal livello in cui l'allievo è in quel momento. Poi piano piano si progredisce ma l'importante è affrontare pezzi anche di vari generi e sempre alla portata dell'allievo. La lezione è di un'ora, il costo può richiederlo presso la mia mail mandandomi una mail robertoandreucci.com abito a Firenze in zona via Maragliano le lezioni possono essere o una settimana o due al mese l'allievo sceglie sempre un giorno o un'ora e l'ora rimarrà sempre quella senza che ogni volta si debba cambiare giorno e ora per rifissare se una volta un allievo non può mi manda un messaggio e ci vediamo la volta successiva io non gli faccio pagare la lezione ovviamente persa questo per quanto riguarda anche me vale la stessa cosa se ho un impegno ovviamente se salta la lezione ci si vede direttamente la volta dopo per me la cosa importante è che l'allievo che viene qui non si senta in difficoltà se una volta non ha studiato quello che non ha potuto fare a casa lo può fare qui con me io accompagno l'allievo con delle basi oppure direttamente dal vivo con l'organo con il basso elettrico simulato da una tastiera che serve per far sì che migliori le sue capacità e che possa anche usare una sola mano se l'esercizio prevede che debba migliorare con quella mano ma non sentendosi scoperto nel senso che di fatto se ha dietro un accompagnamento con una base fatta da me ad hoc fa quello che deve fare lo impara al meglio ma non sente il vuoto a livello musicale intorno quello che manca ovviamente glielo costruisco io tutto qua, chi ha intenzione di contattarmi può farlo su robertoandriucci.chiocciolatmail.com e la cosa fondamentale per me è che se si comincia un percorso che poi si porti a termine nel senso una lezione al mese non sono interessato a darne perché secondo me non porta niente a nessuno e poi faccio lezioni anche su Skype e la cosa fondamentale per me è che non ci sono generi preferiti cioè si può fare una volta un genere, una volta un altro se l'allievo vuole aumentare le proprie capacità oppure il proprio gusto personale è solo su un genere nessunissimo problema però io sono portato a insegnare qualsiasi tipo di genere avendo praticato nella mia vita di musicista tutti i generi diciamo che per quanto riguarda la musica classica si va fino al quinto anno di conservatorio per esempio io oltre non mi posso spingere per una questione di credibilità però fino al programma di un quinto anno di conservatorio posso essere utile all'allievo grazie se mi contatterete mi farà veramente molto piacere conoscere dei nuovi allievi soprattutto perché a settembre ho rinnovato il mio studio ho il pianoforte Yamaha B1 verticale nuovo ho nuova strumentazione per cui di tutto questo tutto questo lo metto a disposizione dei miei attuali e futuri allievi grazie grazie a tutti